Oggi proponiamo questa perlina di pasta risottata con friarielli, scampi e peperoncino. Questo piatto nasce dopo poche settimane che stavo qui a Pasta Ballionessa, all'inizio che sono arrivato qui nel 2017. Diego mi chiedeva come mai io nei miei menù non mettessi il risotto. A questa domanda a me mi è venuto abbastanza spontaneo dire che essendo un pasta bar sembrava abbastanza controproducente proporre dei risotti al menù. A questa mia affermazione Diego se ne è venuto dopo due giorni, a distanza di due giorni, due giorni reali, se ne è venuto con questo formato di pasta molto piccolo, quasi da sembrare un chicco di liso. Non è nient'altro che sono dei soffi di semola mischiati con l'acqua che creano questa pasta molto piccola che sembra quasi uno spaghetto spezzato. Noi la proponiamo proprio come se fosse un riso, quindi la tostiamo, la tostiamo a secco senza olio con un pizzico di sale. Aggiungiamo questa crema di friarielli fatta con friarielli ripassati e friarielli sbianchiti. Poi alla fine quando andiamo ad imbiattare, aggiungiamo questi scampi a tocchetti crudi, leggermente marinati con sale e olio. Questo ci mette di friarielli appena sbianchite e un po' di questa crema al peperoncino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.